le luci e l'ultra violenza sesso impianti rock and roll l'eccesso che qualsiasi cosa che vuoi fare poi principalmente mi piacerebbe giocare un qualsiasi personaggio che sia un cazzo di potuto cyborg che tuona le persone questo voglio giocare corporativo chiaramente io vorrei giocare nelle neon demon e vorrei essere piena piena di neon la mia location preferita ambrosia questa la location perfetta è sicuramente questa quella degli sprawl guardate cavi gabbie cose robe giapponesi perfetta ah non ti sei iscritto io ti vengo a cercare a casa te un figlio tua madre chiunque ti vengo a prendere se non ti sei ancora iscritto ti direi beh ma vieni a giocare ma cosa stai aspettando clicca iscriviti un attimo